Un banco di prova che somiglia molto ad un'ultima spiaggia. L'Avellino di Torino per la sfida di domenica contro il Messina dovrebbe mettere da parte il 3-4-3 e questa è già una prima indicazione che è il sapore della certezza. Dopo tre giornate in cui non si è fatto risultato e si è messo a segno solo un gol, è ovvio che sia arrivato il momento della riflessione e del cambiamento. Nell'allenamento pomeridiano di oggi si proverà ad interiorizzare gli schemi adattandoli naturalmente a uomini ed avversari. Poi nella rifinitura di domani si metterà a punto la formazione definitiva. Partendo naturalmente dalla valutazione degli uomini. Iliana e Seppane non dovrebbero farcela nemmeno per questa gara, probabilmente ci saranno per la prossima. Tito dovrebbe aver smaltito il risentimento muscolare che lo ha tenuto a riposo nella trasferta di Monopoli al pari di Zanandrea che potrebbe riprendersi il posto in difesa. In ogni caso si ripartirà da Marcone, seppur non impeccabile, nell'ultima uscita di campionato. La linea 3, formata da Moretti e Zanandrea, con Aia centrale. A centrocampo si faranno delle riflessioni a partire dalla scialba prestazione di Ricciardi e Micoschi. L'unico promosso a pieni voti è Casarini, che con Dall'Oglio e Franco dovrebbe rappresentare il cuore del campo. In avanti nuova chance per Canutei e Gambale con Murano, che vorrà certamente insidiare la maglia da titolare al collega e piazzarsi in avanti. Intanto ieri chi si aspettava una visita del presidente al campo è rimasto deluso. Nessuno ha fatto capolino al partenio per discorsi motivazionali o altro. Quel che è certo è che domenica qualcosa dovrà cambiare a partire dal risultato finale. Il rischio è la crisi nera dalla quale potrebbe scaturire un vero e proprio effetto domino.